Studenti sul podio con le medaglie al collo e il sorriso sul volto, sono stati un'ottantina i ragazzi che hanno preso parte alla 23esima edizione di Bulling e Scuola, l'iniziativa che oggi si è conclusa nelle piste dello Sport Park di Fano con le gare e le premiazioni a livello provinciale. Ad annunciare i vincitori, direttamente il responsabile nazionale Giuseppe Beranti. Per le medie si è classificata al primo posto Aurora Gorini dell'Istituto Comprensivo Marco Polo per il settore femminile, mentre per quello maschile la vittoria è andata ad Enea De Paoli dell'Istituto Mattei di Acqualagna. Per le superiori invece premiati Elisa Cotignola del linguistico e Nicola Pandolfi dell'Istituto Donati di Fossombrone, scuola quest'ultima che complessivamente ha raggiunto il punteggio più alto grazie ai risultati ottenuti dai singoli studenti, a consegnare i premi l'assessore Etienne Lucarelli. Nicola, primo nella classifica maschile ma anche in quella dell'Istituto, eri già un appassionato di questo sport? Non partecipavo a tornei o cose di questo genere però giocavo il fine settimana così con mio padre. Una vittoria inaspettata? No, sapevo già di essere bravo e non pensavo proprio primo però pensavo di fare un punteggio alto. Professoressa che cosa significa per i ragazzi partecipare a questa iniziativa? Rappresenta moltissimo. Io penso che lo sport sia sicuramente la strada migliore per l'educazione dei ragazzi e quindi da sempre abbiamo cercato di promuovere e anche grazie quest'anno la nostra dirigente perché voglio dire non era così facile spostarsi in momenti in cui il covid diciamo così ci ha frenato moltissimo. quindi ringrazio tanto la dirigente per questo e ringrazio l'organizzazione come gli altri anni. Insomma noi abbiamo sempre cercato di partecipare e portare i ragazzi in tutte le attività promosse per lo sport perché riteniamo che sia proprio la strada giusta per la crescita e la formazione personale dei nostri ragazzi. Entusiasti non solo i ragazzi e i docenti che li hanno accompagnati ma anche il titolare dello sport park Marco Raganini. Dopo due anni di stop a causa della pandemia finalmente è ripartito anche questo progetto? Sì finalmente è proprio la parola appropriata perché ci mancava tanto rivedere questa attività che tra gli studenti è bella perché appunto dà una possibilità di nuova di socialità anche secondo me a quest'età adolescenziale è importantissima perché ma in tutte le case è sempre più raro portare magari i propri figli a fare attività motoria o insieme ad altri dove si può anche socializzare quindi attività di gruppo e qui essendo una cosa che avviene in una classe scolastica quindi a gruppi minimi di 20 e poi dopo più classi dello stesso istituto che si ritrovano insieme a fare questa gara e poi dopo con altri istituti nelle fasi successive della gara è una cosa che secondo noi è bellissima e continuiamo a dedicarci risorse e impegno perché oltretutto viene fatta anche a livello gratuito quindi per noi è la nostra miglior promozione insomma del nostro prodotto che è un gioco, un prodotto di intrattenimento. State lavorando per far ripartire anche le altre iniziative? Sì, dopo 25 anni nel 2019 avevamo già fatto una decina di edizioni nazionali e vogliamo ritornare a fare l'edizione della finale nazionale con quei numeri che avevamo nel 2019 quindi ci vorrà tanto impegno ma ci stiamo lavorando.